Mi chiede Laura Pastore, è una realtà l'area fitness sul lungomare di Portighiera. Finalmente siamo riusciti a portare a conclusione questo progetto, era un'idea che avevo da diversi anni e quindi sono immensamente felice di essere riuscita insieme anche a Walter Soriento, al mio collega, a portarla a termine. Qui finalmente ci sarà un luogo adatto a tutti, un'area fitness dedicata non solo ai giovani ma anche a coloro che hanno qualche annetto in più. Sono degli attrezzi molto semplici da utilizzare naturalmente con cura e chiedo anche ai ragazzi di averne cura e di utilizzarli nel modo giusto per poterli conservare il più a lungo possibile.